Buonasera, benvenuti a questo incontro di presentazione di questo libro Tu quasi preghiera di Adriana Zarri che è un felice ritorno per noi, sia la ripubblicazione del libro sia la possibilità di parlare ancora di Adriana Zarri. Io sono Armando Buonaiuto, il curatore di Torino Spiritualità, chi segue Torino Spiritualità avrà già visto una buona serie di incontri dedicati ad Adriana in maniera più o meno esplicita però sicuramente è una figura alla quale siamo rimasti legati nel tempo e che abbiamo interpellato nelle varie edizioni perché la sua teologia, la sua esperienza spirituale, la sua esperienza esistenziale sono state talmente vaste e sfaccettate, è stata una donna così poliedrica nel modo in cui ha affrontato la vita terrena, la vita ordinaria, la vita straordinaria, la vita spirituale, la vita trascendente ecco che si è prestata ogni volta a essere interpellata da noi perché c'è un distillato di ricchezza nelle sue parole e nei suoi testi e lo vedremo in questo forse in maniera particolare. Con me ci sono Ezio Quarantelli che è direttore editoriale della casa editrice Lindau che ha ripubblicato il libro Francesco Chetto che ne è stato il curatore e ha seguito tutte le fasi di revisione generale e poi ha scritto un ricco apparato critico nel finale del libro, un bel saggio molto denso, molto interessante dove molti di questi aspetti di Adriana Zari vengono puntualizzati e sviluppati in maniera anche molto originali e poi Antonietta Potente, religiosa e teologa, dalla quale sarà interessante ascoltare una testimonianza legata a una certa contiguità che c'è tra Antonietta Potente e la figura di Adriana. L'incontro è in collaborazione con Torino Spiritualità e chi lo sa che in qualche modo non sia anche un prodromo della prossima edizione della quale ancora non vi posso svelare niente ma ci stiamo lavorando. Dicevo della ricchezza della figura di Adriana Zari, è stata una donna sempre sul limite in qualche misura era una donna estremamente legata alla terra, alle proprie origini ed era una donna che aveva un altro piede però in tutt'altra dimensione, era una donna capace di profondissima contemplazione ma era una donna anche con un volto pubblico scriveva su riviste come Concilium, come Il Regno, al tempo stesso però trovavate una sua rubrica sul Manifesto e qualcuno magari ricorderà di averla vista ospite delle prime edizioni di Samarkand, da Fantoro dunque una figura veramente d'avanguardia anche nelle battaglie che ha combattuto e nel modo in cui ha voluto combatterle. Noi oggi cercheremo di far emergere sia il suo nocciolo, il nocciolo più interno di Adriana Zari e il nocciolo più interno della Chiesa che è quello che riguarda lo spirito della contemplazione ma anche la dialogicità che lei intratteneva non soltanto con Dio quindi non soltanto una dialogicità che si esprimeva in verticale ma anche una dialogicità orizzontale e la sentiremo emergere dalle sue poesie. Le sue poesie avranno un ruolo centrale in questo incontro c'è con noi Antonella Delligatti, attrice, che darà voce alle parole di Adriana Zari e io vorrei iniziare così chiedendo ad Antonella di leggerci la prima poesia quella che peraltro apre il libro e che è stata anche ripresa nella quarta di copertina perché forse è quella che meglio intercetta e meglio distilla il cuore di ciò che noi andremo a esplorare quest'oggi. Antonella Pregare non è dire preghiere Pregare è rotolare nel buio della tua luce e lasciarci raccogliere e lasciarci parlare e lasciarci tacere da te Pregare sei tu che preghi tu che respiri tu che mi ami e io mi lascio amare da te Pregare è un prato d'erba e tu ci passi sopra Grazie Antonella Delligatti ecco da queste parole che aprono il libro io chiedo a Ezio Quarantelli di raccontarci un po' questa avventura editoriale e anche una certa familiarità editoriale che l'indaua con Adriana Zari Volentieri Io in realtà non sono titolato per entrare nel merito del libro perché non ho le competenze di Francesco e tantomeno quelle di Antonietta però appunto sono forse titolato per parlarvi del perché l'abbiamo pubblicato ma soprattutto del perché l'abbiamo molto amato ecco sì forse vorrei parlarvi soprattutto dell'amore che ci ha legato a questo libro fin dal primo momento spesso leggendo queste poesie, preghiere, preghiere, poesie è difficile trovare la giusta collocazione per questi testi mi è tornato in mente il motto del cardinale Newman Core at core loquitur il cuore parla al cuore perché questo è stato il mio primo modo di avvicinarmi a questi testi col cuore e non credo sia del tutto fuorviante perché penso che in questi testi Adriana con il suo pensiero e con la sua sensibilità parli senza mediazioni cioè forse se c'è una mediazione è una mediazione di tipo letterario sono testi di grande qualità anche dal punto di vista letterario ma per il resto no il suo pensiero la sua sensibilità si danno così senza mediazioni e secondo me raggiungono il cuore il cuore davvero il cuore dell'uomo contemporaneo di un uomo contemporaneo anche un po' distratto anche un po' restio ad affrontare certi argomenti a percorrere certi terreni io ho sentito dentro questo libro una forza straordinaria e soprattutto quella forza che secondo me deve avere un testo che parla di Dio che parla di preghiera oggi quando noi abbiamo avviato la collana di spiritualità dentro la quale il libro di Adriana è stato pubblicato i pellicani ci siamo posti subito al problema di dove andare a parare perché non è semplice oggi parlare di spiritualità evitando da una parte quelle se mi consentite questa espressione un po' forte quelle che mi paiono le secche di un certo devozionalismo e dall'altra però il generico di tanti discorsi molto superficiali molto spuri anche secondo me rispetto ai grandi temi della spiritualità ho pensato ragionandoci un po' riflettendoci chiacchierando naturalmente con le persone con cui condivido il mio percorso di lavoro che la mistica potesse essere un linguaggio paradossalmente interessante per l'uomo contemporaneo proprio perché in qualche misura brucia le mediazioni perché in qualche modo stabilisce una via che può sembrare qui ci sono anche dei pericoli ovvi ma insomma non voglio riflettere su questo più diretta per sentire per toccare certi problemi e certa realtà il nome di Adriana mi è subito mi è subito tornato alla mente primo perché io la ricordo alla radio negli anni settanta quando io ero uno studente e passavo molto tempo ad ascoltare la radio invece di studiare e anche Adriana l'ho sentita intervenire più volte poi l'ho letta successivamente poi naturalmente l'ho letta quando sono usciti gli ultimi bellissimi libri dai Naudi e mi è sembrato che in lei ci fosse un bellissimo connubio fra il pensiero e appunto la mistica cioè che la sua fosse una mistica che aveva radici nel pensiero quindi non qualche cosa di puramente effusivo mai qualcosa di sentimentale ma qualche cosa invece di nutrito anche di scontroso anche di complicato non complicato ma difficile forse certe volte insomma quello che mi sembrava un buon nutrimento per i nostri potenziali lettori e così grazie alla disponibilità dell'associazione Amici di Adriana Zari a cui sono davvero molto grato è cominciato una prima esperienza poi è arrivato questo libro bellissimo di cui sono veramente innamorato e poi arriveranno altre cose quest'anno fra non molto uscirà un altro suo libro credo davvero che leggere Adriana sia una bellissima esperienza io da quando abbiamo cominciato a fare qualche presentazione di questo libro mi sono andato a riprendere certi suoi libri che peraltro ricordavo abbastanza bene e avendoli letti quindi non avendo più il problema di doverli leggere dall'inizio alla fine li assaggio ed è sempre davvero un'esperienza che mi nutre moltissimo ma io non vorrei aggiungere altro perché c'è chi può dire delle cose molto più interessanti di quello che ho detto io per cui lascio volentieri il microfono a Francesco naturalmente ad Antonietta grazie grazie Ezio Quarantelli bella il riferimento a Newman al motto del cuore che parla al cuore e lo vedrete la poesia la quasi poesia che c'è in questi che c'è all'interno di questo libro parla direttamente al cuore ma fa ancora qualcosa di più dal punto di vista della relazione io credo nel senso che ogni volta che si fa poesia c'è una sorta di patto col tuo lettore quindi sei tu poeta che parli al tuo lettore qui in queste quasi preghiere dove poesia e preghiera si incontrano c'è lo spazio per un terzo che irrompe in questo rapporto bionivoco non è più soltanto il poeta è il lettore ma c'è Dio c'è Dio in mezzo che si frappone e si instaura una relazione speciale perché tu lettore almeno quello che ho sperimentato io leggendo queste poesie devi necessariamente per riuscire a comprenderle al di là di un aspetto puramente poetico e letterale o per una bella sonorità per riuscire a comprenderle a fondo devi entrare in quella relazione poi uno potrebbe obiettare che in generale non so per esempio in una poesia d'amore in cui il poeta si riferisce alla donna amata o all'uomo amato c'è comunque un terzo di mezzo sì è vero ma qui è diverso qui tu sei obbligato sei chiamato con la coscienza sei obbligato a entrare in questa in questa sorta di vortice amoroso in questo vortice amoroso che parla da cuore a cuore come giustamente diceva Ezio e quindi la poesia la quasi poesia e la quasi preghiera di Adriana Zari diventa per sua stessa intima essenza una relazione e lo sentiremo lo sentiremo nella poesia che verrà letta ora che si intitola Amami sentiremo che c'è un'effusione ma non l'effusione in senso negativo che si diceva prima ma una concreta un concreto vettore un concreto trasporto che ti porta verso Dio e che trascina anche te anche te lettore non soltanto il poeta che ha aperto il proprio cuore grazie Antonella Amami Dio nella notte nel sole nel buio con pace con furore con follia Amami come vuoi Amami come voglio non c'è più alcuna differenza perché le cose ragionevoli le sai le so le sanno tutti ma la passione batte strade diverse meno percorse e prevedibili non regolate dai semafori rossi e neanche dai treppiedi bilanciati dei nostri savi sillogismi Amami quando ti vengo incontro quando ti tengo la mano quando ti aspetto nel buio nelle albe bianche nei giorni caldi nelle notti lunghe Amami 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 Dio Grazie Antonella e Francesco Francesco Ketto curatore del libro a te la parola Bene grazie siccome Ezio ha ringraziato l'associazione Amici di Adriana Zarri come prima cosa vorrei portarvi il saluto dell'associazione che custodisce la memoria il ricordo la testimonianza di Adriana Zarri e vorrei partire proprio da questa poesia che ha letto Antonella come avete sentito questa poesia è una poesia che se non si rivolgesse esplicitamente a Dio si potrebbe assolutamente dedicare a una persona amata e è stato molto pertinente l'intervento di Ezio perché ha sottolineato come in realtà parlare di mistica significa addentrarsi in una realtà che spesso percepiamo con grande ambiguità che cos'è mistica no? si ha sempre la sensazione di entrare in qualcosa di aurorale di non così chiaro in verità questa raccolta che noi oggi presentiamo che è una raccolta di poesie mistiche ci testimonia invece come le vere mistiche i veri mistici sono i maestri della realtà non hanno nulla a che vedere con soltanto con realtà soffuse oniriche ma parlano della realtà e parlano della realtà in modo anche profondamente rivoluzionario sicuramente vi sarà capitato di forse i più grandi tra di voi di vedere Adriana Zari in televisione è celebre per i suoi interventi a trasmissioni televisive come Samarkand la trasmissione condotta da Michele Santoro qualcuno di voi avrà letto i suoi articoli molto polemici contro la società del suo tempo le ipocrisie della Chiesa gli scandali del Vaticano e spesso la sua figura è schiacciata da questo fiero interventismo che la contraddistinze in vita io mi sono siccome abbiamo fatto riferimento al cuore mi sono innamorato della figura di Adriana Zari partendo dai suoi scritti spirituali e veramente quando sono arrivato dal mio professore con cui ho fatto la tesi su di lei e gli ho detto che mi sarei voluto laureare su Adriana Zari sia un po' stupito essendo lui di storia del cristianesimo e pensando che fosse una figura da relegare più all'ambito della politica della storia e invece no Adriana Zari è soprattutto una mistica del nostro tempo e tu quasi preghiere è uno dei tanti libri che dimostrano come la sua lucidità il suo sguardo critico sulla realtà che è diventata una cifra del suo esistere è stata solo una conseguenza di una sua profondissima visione mistica una sua esistenza che lei ha saputo vivere e spendere in una straordinaria intensità spirituale allora siccome questo testo sintetizza in modo straordinario i grandi temi della sua teologia ricordiamo che Adriana è stata la prima donna a imporsi veramente nell'ambito teologico del novecento è stata una pioniera vorrei dirvi soltanto qualche cosa così che magari chi leggerà il libro avrà una una maggiore agevolezza nel leggerlo e magari nel comprendere anche certi temi che lei a cui lei accenna attraverso le poesie anche molto semplici ma che in realtà sono cariche dense del suo pensiero teologico e vorrei partire proprio siccome io vi ho detto che Adriana Zari prima di essere cosa che è stata una grande figura della storia della chiesa del novecento una teologa militante è una mistica e dobbiamo considerarla una mistica nell'accezione del grande deserto quando deserto dice mistica o mistico è colui o colei che non può smettere di camminare non diamo altra definizione alla mistica perché se no veramente poi diventa difficile no è mistico o è mistica colui o colei che non può smettere di camminare cioè che si addentra nel mistero dell'esistenza umana e lì ci rimane e lì continua il proprio cammino in questo profundum che ha un sapore molto agostiniano e appunto Adriana Zari parla della preghiera come della contestazione più profonda sembra strano perché questi testi parlano sostanzialmente di amore parlano del suo rapporto con la terra parlano della sua cosmovisione Adriana era innamorata del cosmo lei proveniva da una famiglia contadina era molto legata alle radici della terra alla sua vita che poi ha deciso di vivere in un ambito molto se vogliamo contadino perché lei dopo il suo periodo di militanza ecclesiologica e anche se vogliamo politica nel 1971 proprio quando pubblica questa raccolta di poesie decide di fare vita eremitica e non una vita eremitica semplice perché prima decide di andare ad Albiano in un castello perché lei aveva questa verve da castellana amava proprio gli spazi ampi e poi però decide di andare in un cascinale totalmente abbandonato a Fiorano Canavese che sarà poi il celebre molinasso di un eremono e un guscio di lumaca pensate non c'erano neanche i vetri alle finestre ma lei disse mi bastò e quelli furono gli anni più belli della sua vita anni di deserto di solitudine ma una solitudine riconciliante che non fu mai un abbandono del mondo ma un vivere dentro le cose lei diceva la solitudine non è un tagliarsi fuori dal mondo ma è vivere dentro il mondo e proprio anche questo lo dimostra al fatto che poi lei fece anche delle vere e proprie battaglie dal suo eremo che era un osservatorio appunto del mondo e queste poesie che lei scrive che parlano appunto di temi che ci sembrano anche se vogliamo estranei a quella che è la realtà politica ecclesiale che invece lei scandagliava attraverso i suoi libri di teologia ma anche soprattutto gli articoli deriva invece proprio da un monito che ha nel suo statuto la necessità di andare contro il sistema un preciso sistema lei dice proprio questo la preghiera è la contestazione più profonda di questo nostro mondo utilitario in quanto mette in crisi non già le forme d'oppressione in cui si manifesta ma il modello antropoculturale che le esprime un modello essenzialmente efficientistico privo di quegli spazi di fantasia di poesia di gratuità su cui si innesta appunto la preghiera e qui poi fa proprio riferimento alla sua decisione di andare a vivere in forma eremitica mi rendo conto che andandomi a seppellire nel silenzio faccio molti passi indietro nella scala dei cosiddetti valori sociali esco definitivamente se mai vi sono stata e credo proprio di no dal giro delle persone che hanno prestigio e potenza in questo mondo lo so e lo voglio e anche questa una contestazione del nostro mondo di arrivismo di carrierismo di arrampicamenti per vivere da poveri tra i poveri puntando a ricchezze più profonde ecco diciamo l'idea della preghiera come contestazione profonda anche sociale anche politica è molto presente in questo in questo testo sebbene non sia esplicito allora vorrei proprio così raccontarvi pochissime cose relativamente un po' alla teologia che sta dentro queste preghiere abbiamo sentito prima pregare non è dire preghiere pregare è rotolare nel buio della tua luce e poi dice pregare è un prato d'erba e tu ci passi sopra e da questo allora capiamo benissimo che per Adriana Zari la preghiera non era andare in chiesa e dire preghiere sebbene lo facesse ma era soprattutto vivere esistenzialmente la preghiera che prima ancora che dire o recitare formule è abitare la preghiera di Dio per lei era una situazione ontologica la preghiera in questo senso si allinea proprio alla tradizione patristica ricordiamoci Evagrio Pontico quando diceva teologia è saper pregare per lei teologia è saper pregare cioè fare esperienza di Dio della preghiera di Dio ed è soprattutto riconoscersi donna perché riconoscersi donna? perché se pregare non è solo dire preghiere ma è soprattutto attendere attendere tendere alla preghiera di Dio che prega dentro di noi in una situazione ontica permanente lei la definisce proprio una situazione ontica permanente allora la preghiera rimanda alla dimensione recettiva della mistica cioè al farsi cavi allo svuotarsi per la venuta di Dio ecco che lei dice proprio questo pregare non è dire ma ascoltare parole e fare posto alla parola silenziosa che Dio pronuncia nel centro profondo di se stesso ma l'accoglienza di Dio non si può improvvisare se non c'è un atteggiamento abituale di recettività è per questo che la preghiera è così difficilmente proponibile alla nostra civiltà del risultato dell'efficienza del fare alla nostra cultura attivista e virilista che emargina i soggetti più accoglienti e gratuiti più inclini alla contemplazione le donne gli artisti gli utopisti gli innamorati le persone più ricche di gratuità e di stupore lavorare perciò alla promozione della preghiera significa anche lavorare per il superamento di questo modello antropologico ecco vediamo proprio come quindi queste poesie così femminili noi in cui questo tu a cui ci si rivolge non è un tu semplicemente teologico non siamo di fronte a un tu squadrato Adriana definisce tanti teologi soprattutto uomini contabili del sacro no qui siamo di fronte a un Dio che si esperisce nella vita che è impastato di mondo di animali di cielo di terra e questo Dio è un Dio che si può trovare solo nella vita e allora la mistica che è appunto questa impossibilità di smettere di camminare diventa anche questa grande tradizione che per Adriana è quella della mistica femminile che è quella che Luisa Muraro nel Dio delle donne ha definito la teologia in lingua materna guardate che la poesia è una lingua originaria è una lingua materna ecco perché molti poeti non li capiamo perché parlano dal ventre della madre e queste poesie nascono dal ventre della madre sono linguaggio originario perché parlano di un amore che non si può rimandare un amore totale al quale Adriana Zari ha detto semplicemente sì e questo sì noi lo raccogliamo questo sì ci viene spalancato e questo sì lo portiamo dentro come una grande testimonianza non solo teologica ma soprattutto di vita e di estrema profondità grazie Francesco grazie Francesco Chetto per averci aver iniziato a portarci dentro alla teologia per alcuni tratti anche molto peculiare di di Adriana Zari dalle poesie che avete sentito fino ad ora vi sarete anche accorti che c'è un un gusto anche per un utilizzo di un di un lessico semplice cioè che esprime contenuti sacrali in modo in modo molto semplice c'è un'altra maniera in cui la poesia poi si accosta al sacro no? anzi un'altra maniera in cui la poesia si accosta al mondo per dire il sacro ed è trasfigurandolo trasfigurando il concreto trasfigurando le cose trasfigurandole come se dovesse portarle a una a una a una forma di verticalità che alle cose manca che al mondo mancano come se bisognasse in qualche modo riscattarlo rendendolo ancora più prezioso e più vicino al divino non è ciò che accade nella poesia di Adriana Zari anzi il movimento sembra opposto sembra che il movimento poetico il movimento spirituale sia dall'alto verso il basso cioè come se Adriana Zari nel suo linguaggio semplice tirasse giù il divino come se andasse a scuoterlo e lo portasse giù e lo portasse giù per farci vedere che ci sono schegge incarnate di divinità ovunque in tutto il creato tutto il creato è punteggiato di schegge di divino ed è molto bello questo avvicinamento del divino all'esperienza quotidiana perché è un riverbero è un riverbero potente che qui è ulteriormente accentuato dal potente prezioso riverbero della poesia allora noi adesso ascoltiamo ancora un'altra un'altra poesia le due poesie che abbiamo ascoltato finora erano tratte dalla medesima sezione perché il libro è suddiviso in sezioni queste due che abbiamo ascoltato erano tratte entrambe da preghiere inutili è anche già interessante sarebbe interessante anche ragionare sul perché preghiere inutili adesso ascoltiamo ancora invece una poesia che tratta da un'altra sezione e ci saranno cieli nuovi è la sezione da cui da cui questo brano è tratto da queste parole sono tratte la poesia è epigrafe non mi vestite di nero è triste è funebre non mi vestite di bianco è superbo è retorico vestitemi a fiori gialli e rossi con ali di uccelli e tu signore guarda le mie mani forse c'è una corona forse ci hanno messo una croce hanno sbagliato in mano foglie verdi e sulla croce la tua resurrezione e sulla tomba non mi mettete marmofreddo con sopra le solite bugie che consolano i vivi lasciate solo la terra che scriva primavera un'epigrafe d'erba e dirà che ho vissuto che ho atteso che attendo e scriverà il mio nome e il tuo uniti come due bocche di papaveri grazie Antonella ecco un'epigrafe d'erba c'è un'idea di morte che si accompagna a una ritualità che è molto poco culturale ed è invece tanto naturale potrebbe sembrare quasi paganeggiante quindi chiedo ad Antonietta Potente di entrare ancora nel pensiero di Adriana da questa porta del rapporto diretto con la natura buonasera a tutte e a tutti sono contenta di di essere stata invitata a leggere insieme questo questo testo io vorrei dopo tutte le cose belle che sono state dette quello che Francesco ha sottolineato che è in sintonia con quello che vi dirò vorrei entrare ancora di più in questo libro cercandone un po' l'humus le fonti cioè Adriana non è nata a caso Adriana segue delle tracce che sono le tracce che poi ciascuno e ciascuna di noi seguiamo a modo nostro con le nostre caratteristiche come ha fatto Adriana però sono tracce sapienziali quelle tracce che servono per vivere non parlo di tradizione nel senso appartenenza alla chiesa perché credo che per Adriana sarebbe troppo stretto ma di tradizione sapienziale la tradizione è questo poter davvero avere da altre e da altri le cose che servono per vivere Adriana le ha prese Adriana le ha vissute le ha ruminate e Adriana le ha scritte questo è uno dei suoi tessuti forse più importanti appunto perché si muove è un tessuto molto leggero che si muove tra poesia e preghiera ma poi ci sono tutti gli altri testi c'ha una grande fluidità nello scrivere Adriana per cui abbiamo un'eredità molto molto grande alla quale possiamo attingere e vi dico sinceramente che a me il suo pensiero la sua figura mi è arrivata un po' come il ritorno dell'onda nel senso che io non l'avevo conosciuta a fondo poi ho passato una parte della mia vita in un altro continente per cui ho perso forse gli anni anche più più fecondi della della sua vita e quindi mi è stata restituita mi è stata restituita da Francesco da Ezio mi è stata restituita dall'associazione Adriana Zari cioè dalle persone che non solo la conoscono intellettualmente perché hanno letto i libri ma perché hanno un affetto particolare per questa persona quindi anche persone che l'hanno conosciuta davvero almeno per quanto riguarda chi fa parte dell'associazione però ecco nel mare magnum di questa sua scrittura e del suo pensiero questa sera io vorrei fermarmi su questo tu quasi preghiere analizzando anche questo tu e anche questo quasi preghiere o quasi preghiera poesia come è stato detto un libro che si muove tra poesia e preghiera quella preghiera che nelle scritture cristiane che Adriana conosceva molto bene che sono state la fonte anche della la sua ispirazione non solo spirituale ma politica quelle preghiere che come dice il libro dell'Apocalisse sono incenso quindi il libro di Adriana è avvicinabile secondo me proprio attraverso i cinque sensi l'incenso è un profumo qualcosa che più che ascoltare queste preghiere qualcosa che si deve udire si sente con il nostro organo olfattivo come un profumo le preghiere si 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 percepiscono con l'olfatto è la prima sensazione che mi dà questo libro queste pagine non solo si leggono ma si sentono con l'olfatto il gusto il tatto e poi l'udito si sentono i profumi delle primavere viste da Adriana si odono i rumori e gli uccelli ascoltati che lei ascoltava e si toccano quello o si tocca quello che lei ha toccato quindi questa natura per esempio nel libro si tocca questo divino nella natura si tocca è un libro da guardare non solo da leggere e ascoltare ma è un libro da guardare e questo non è una cosa strana nella tradizione cristiana ripeto tradizione in quanto sapienza cose belle essenziali che servono per vivere non sovra più inutili nella tradizione cristiana che Adriana appunto conosce bene questo udire sentire toccare palpare è molto presente nella lettera di Giovanni è chiaro tutto quello che abbiamo visto udito ascoltato per cui questi cinque sensi così vivi che servono per vivere e quindi che servono per entrare nel nel mistero perché così diceva Giovanni e così mi sembra di capire ci porta a scoprire Adriana il mistero è vita la vita si è manifestata è la vita non è Dio è la vita che si è manifestata e questo testo tu quasi preghiere è un testo pieno di vita la vita si è resa visibile probabilmente perché Adriana conosce bene anche questo aspetto umano la nostra tristezza è proprio quando la vita non è visibile cioè non ci stiamo dentro non ci entriamo dentro ma c'è un'altra tradizione che a me è venuta in mente leggendo e ristudiando e pensandolo anche in veglie notturne questo libro di Adriana ed è una leggenda ebraica molto bella dove si dice che normalmente gli esseri celesti rendono gloria a Dio ma le creature umane dice questa leggenda hanno la precedenza sugli angeli tanto che dice la leggenda che quando il popolo canta gli angeli devono star zitti ecco a me sembra che tu quasi preghiere è così l'umano e le creature in Adriana zarri hanno precedenza nella lode rispetto agli esseri celesti questo perché quella comunione dei santi che noi pensiamo che ci toccherà chissà quando è in realtà nella terra è la vicinanza con la vita con la vita anche con la sua imperfezione con la sua più assoluta precarietà quindi sono quelli profumi quelle sensazioni quelle visioni che Adriana ha della vita che la mettono in questo atteggiamento di preghiera ma vorrei anche sottolineare un aspetto secondo me molto importante il tu la prima cosa che si presenta in questo libro è il tu io questo tu lo sento come qualcosa di apofatico cioè di grande sentimento o sentire del mistero non è un nome è un sentire una presenza il percepire quella che io chiamerei la divina presenza in ebraico è la shekinah la divina presenza colei che abita colei che aleggia nella realtà per cui quel tu non è come noi cristiani molte volte pensiamo perché Dio sia così intimo e io quasi divento chi lo possiede no anzi quel tu è per non dare un nome a Dio per questo dico una tradizione che nella storia della della teologia si chiama la tradizione apofatica cioè l'impossibilità di dire veramente chi è Dio allora lo chiamo con questo tu quel tu che non è appunto segno di intimismo ma quel tu che percepisce il mistero il mistero molto più grande del mistero non si può dire tutto penso che si faccia uno spregio al pensiero e all'esperienza di Adriana Zarri quando parliamo della sua relazione con il mistero come qualcosa di amicale e confidenziale no è molto di più lei non ha una confidenza banale da figlia a padre è molto di più in queste poesie si coglie la vicinanza al mistero ma anche come poi vi dirò l'assenza cioè la precarietà di questo intenso incontro che è la storia di tutti noi di tutti coloro e di tutti coloro che cercano questo mistero se la si inserisce Adriana nella scia della mistica cristiana quel tu è adorante e non di possesso è la consapevolezza di vederne solo le sue tracce le tracce di questa divina presenza il tu percepibile di spalle come direbbero le scritture ebraiche percezione solo di un passaggio solo se lo sguardo è rivolto alla realtà non ai dogmi o alla dottrina ma alla realtà si capisce allora perché in alcune poesie preghiere di Adriana c'è anche una sottile critica a certi atteggiamenti della chiesa soprattutto del clero proprio per questo quel clero sicuro quel clero che ha rinchiuso il mistero e ne è diventato proprietario ha pensato di esserne proprietario quello è oggetto di critica per Adriana perché il suo tu supera quel tipo di proprietà con un tu non si diventa proprietari magari si diventa amanti che è un'altra cosa e Adriana questo lo sa molto bene allora io direi anche che in questo libro noi troviamo due delle vie molto importanti della sapienza e della pratica anche cristiana le due vie che io chiamerei dell'essicasmo cioè che hanno seguito gli eremiti le mistiche i mistici i monaci eccetera per pregare Adriana non ha bisogno di una scuola sulla posizione del corpo ma piuttosto abitua abitua il cuore a una sintonia e a un ritmo come proclama l'antica preghiera sulla preghiera del cuore insieme a quella che nella tradizione eremitica o dei pellegrini anche pellegrine cristiane è la filocalia cioè questi due aspetti la preghiera del cuore è ritmare la vita non sono preghiere vocali orari particolari di preghiere ma è ritmare la vita con questa passione d'amore la ripetizione di questo grande mistero che lei porta dentro l'altro punto che è tipico sempre di questa tradizione che lei ha voluto seguire come ci ricordava Francesco in un certo momento della sua vita in questa vita quasi eremitica ecco l'altro aspetto è la filocalia cioè l'amore alla bellezza e Adriana in queste poesie ce lo mostra queste poesie sono amore alla bellezza per cui insisto su questi aspetti perché lei non inventa nulla lei entra in questa scia sapienziale bellissima dove ci stanno tante altre donne tanti altri uomini dove poi lei gioca tutta la sua vita anche in questa grande passione per la realtà che non è solo la sua realtà il suo bosco la sua casa il suo gatto ma è questa realtà dove è situata cioè la realtà politica per cui c'è questa sua inquietudine in questo tu ci stanno tutti coloro e tutte coloro che Adriana ha incontrato ha amato ha fatto fatica ad amare ci sta il suo gatto il suo coniglio i suoi fiori le persone che l'hanno conosciuta cioè il tu vedete è il nome più bello che si può dare alla divina presenza o alla divina chiamiamola così così impariamo anche un po' più il linguaggio femminile perché in quel tu ci stiamo tutte e tutti cioè non è ci stanno tutte le persone più diverse ci sta tutto l'universo e in queste poesie quando le leggerete o se tornerete a leggere perché magari qualcuno l'ha già lette noterete questo è il tu non è solo la seconda persona nel nel dialogo ma è il tu ricco ricco in natura ricco in memoria di altre realtà di vicende anche storico storiche e io ci vedo anche qui un legame molto forte con quello che è tutta l'orazione salmica perché anche i salmi nella tradizione del popolo credente sia ebraico che cristiano raccolgono raccolgono questo gemito inesprimibile di tutte le persone salmi non sono scritti a tavolino sono gemiti sono lamenti sono espressioni di gioia cioè quello che si raccoglie nella propria vita allora Adriana ci dà questa grande possibilità cioè sentire che siamo in questa via bella cioè in questa via dove la vita parla ancora e quindi noi ci stiamo dentro con passione d'amore nonostante questo però vorrei sottolineare anche un altro tema secondo me tipico della mistica femminile della mistica femminile medievale che è quello che in Margherita Porete si chiamava l'ampresse cioè lontano vicino il sentire la presenza e assenza allo stesso tempo quindi questi testi sono pieni di nostalgia il tu non assicura la conclusione di qualcosa il tu mette una grande nostalgia e questa nostalgia secondo me è la nostalgia politica di Avriana Zari lei ha una nostalgia politica perché interviene su certe cose perché vede che questa filocalia questo amore alla bellezza è tremendamente minacciato l'abbiamo sentito in quello che leggeva Francesco poco fa cioè c'è una situazione storica che a lei interessa e quindi c'è questa parresia questa forza di parlare ma questo è la stessa cosa che avviene nella mistica cioè il sentire la presenza assenza appunto Margherita Porrete Beghina medievale diceva lontano vicino cioè il sentire e però anche il provare questa lontananza e quello è quindi guardando la realtà è una passione non è inventata questa passione politica non è per mettersi in mostra non è semplicemente per andare contro a certe posizioni della chiesa ma è leggendo che questa realtà potrebbe essere molto più bella e che invece è ancora una bellezza sfigurata ultima cosa è la scrittura verticale io ho provato a fare anche un esercizio a vedere se queste queste parole di Adriana queste poesie preghiere si potevano mettere come in prosa ma qui c'è una forza particolare la scrittura verticale è una scrittura profetico sapienziale chi conosce le scritture sa che si scrive i testi in verticali sono o profetici o sapienziali ecco allora il bisogno di Adriana secondo me che la sua preghiera sia anche una profezia cioè la profezia non è indovinare il futuro come sapete benissimo ma è leggere dentro il presente e quindi questa queste preghiere una ad una ci aiutano a leggere dentro il presente in Adriana la fede certamente non è un sentire intimista come dicevo prima ma è questo sentire intelligente intus leggere cioè che legge dentro alla realtà un sentire anche arricchito dal suo studio dalle sue letture dalla sua scrittura costante la scrittura anche aiuta a studiare lei scrive guardavo in questi giorni per rinfrescarmi un po' le idee un'intervista che avevano fatto tanti anni a lei e lei diceva che scriveva di notte che era l'orario migliore ecco questa scrittura che la rende anche saggia come le letture il suo studio per cui non è una fede o un sentire così sentimentale ma è questa lasciarci questo lasciarci portare dentro ecco io credo che Adriana è questo è molto di più ci ha lasciato questo testo ce ne ha lasciato tanti altri e in tutti probabilmente scopriremo ancora delle cose io vorrei chiudere il mio intervento chiedendo un fuori programma la lettura se è possibile a pagina 55 intitolata come nel primo giorno che mi sembra una sintesi molto bella di quello che vi ho detto grazie verde subacqueo aria che sega diamanti il graffio acuto del gallo che riga il cielo come rigò quella sera la mala coscienza di Pietro e tu che ci attendi sulla soglia dell'alba e ci ridoni il mondo nuovo come nel primo giorno grazie 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 Antonietta Potente grazie Antonella Delligatti per la lettura fuori programma abbiamo ancora una poesia da leggere e da esplorare un po' perché Antonietta Potente ha parlato della parresia di Adriana Zarri quindi di questa schiettezza del suo dire che era anche urticante a volte l'ha messa anche in difficoltà e c'è un'intera sezione di questo libro che è pervaso da questo spirito una sezione che si intitola Ballate dell'ira e sono delle invettive in qualche modo contro contro una chiesa che non corrisponde all'idea di chiesa che Gesù aveva è una chiesa che ha tradito Pietro Pietro tra l'altro la mala coscienza di Pietro l'abbiamo appena sentita citare qui e allora leggiamo una di queste poesie ciascuno di noi delle poesie che abbiamo letto finora più o meno ciascuno di noi ne ha scelta una insomma e ha chiesto ad Antonella di leggerne una questa è quella che ho chiesto io perché mi è piaciuta molto e si intitola Piedi nuovi un Gesù un Gesù biondo custodirà vuote basiliche impolverate di ragnatele e l'erba crescerà sopra le soglie finché non torneranno piedi disincantati piedi stanchi piedi sporchi piedi lavati da te nella tua ultima cena finché non torneranno piedi nuovi sopra i prati dell'Eden dell'ultimissimo giorno ecco è un'attesa di cosa dovrebbe essere la chiesa e l'auspicio che torni questo tempo è molto schietta Adriana nel dirlo ed è anche un po' scorticante rispetto a quello che è il contesto che lei vede intorno a sé altrove in queste ballate dell'ira troverete la chiesa definita come una ragnatela un cartoccio unto come palude altrove ancora in una poesia dedicata a piazza san pietro lei chiederà a dio di mandare l'immagine lo specchio di pietro in modo che sia da esempio a quelli che ne hanno preso il posto ma non così legittimamente e va ancora bene che chieda di mandare pietro perché altrove invece dirà a dio manda giù uno di quegli angeli ma quegli angeli antichi quelli con le saette però non sorprende che in realtà che ci sia questo tipo di coloritura anche perché in fiando è la stessa coloritura che troviamo in Gesù nel Nuovo Testamento Gesù poi ce lo siamo spesso raccontato come mite morbido e carezzevole ma se uno legge con attenzione il Vangelo Gesù non è solo così c'è molto altro in Gesù c'è la parresia c'è l'invettiva c'è c'è l'indignazione indignazione è una parola che troviamo proprio talvolta nella sinagoga lui guarda con indignazione chi vuole accusarlo perché lui ha guarito la mano di un paralitico nel Tempio si indigna per il fatto che il Tempio sia tramutato in un luogo di commercio guai a voi dice ben sette volte nel Vangelo di Matteo contro i farisei ipocriti c'è questa coloritura in Gesù che non è mai una coloritura di condanna però è più una una sorta di profetico ammonimento attenzione vuol dire sveglia vuol dire altrimenti diventerete ciò che non siete nati per diventare e la chiesa forse diventerà questa che Adriana racconta e a me piaceva molto in questa poesia il rimando a questi piedi nuovi piedi nuovi che percorrano l'Eden anche nella prima poesia che abbiamo letta si parla di pregare un prato d'erba e tu ci passi sopra ancora sono dei piedi sono dei piedi divini ma qui è l'attesa di piedi nuovi che ricamminino ricamminino sull'Eden Francesco diceva bene in relazione alla mistica ha citato desertò che è mistico e chi non smette mai di camminare d'altronde anche il dio dell'antico testamento è un dio in movimento una tenda è la sua rimora il suo altare è la pietra grezza del deserto è l'arca mobile è l'arca mobile è un dio in perenne movimento è Gesù Gesù è in movimento Adriana fu in movimento e non in movimento in maniera paradossale perché rimase appunto l'abbiamo detto più volte nel suo eremo ma ma in realtà era tutt'altro che stasi quella anzi forse nella concentrazione di un luogo fisso come una bella inquadratura densa di cose si otteneva ancora una proiezione forse ancora più forte diventava un meccanismo proiettivo il fatto di stare di stare fissi in un luogo e dunque questi questi piedi nuovi e come me li immagino questi piedi nuovi me li immagino i piedi che sappiano camminare allo stesso ritmo di Dio quando in Genesi si legge che Adamo ed Eva udirono i passi di Dio e poi Adamo ebbe paura hanno già compiuto il loro atto di disobbedienza Adamo poi ha paura e si va a nascondere ecco Adamo non cammina più è fermo non è più il mistico che non può smettere di camminare in quel momento Adamo si è fermato si è nascosto i suoi piedi non toccheranno altra terra e a me piace pensare che Adamo ed Eva sentissero i passi di Dio perché in quel momento dopo aver commesso un'infrazione erano andati fuori tempo rispetto ai passi di Dio per quello potevano udirli fino a prima forse camminavano all'unisono c'è un altro che cammina all'unisono nella Sacra Bibbia ed è il patriarca Enoch di cui si dice camminò con Dio allo stesso passo di Dio allo stesso ritmo di Dio e infatti brevemente lo si dice ma andò nell'Eden senza dover morire e Dio lo portò con sé perché camminavano camminavano quasi un passo doppio mentre invece il passo di Adamo ed Eva nel Paradiso è un passo che ha perduto il ritmo e quindi ode quest'altro passo di Dio e ne è spaventato e dunque ciò che mi colpiva tanto di questa poesia è proprio questo richiamo al camminare e al ritorno di piedi stanchi di piedi sporchi e poi di piedi lavati nell'ultima cena che mi fa pensare chi lo sa se forse se al centro della nostra liturgia oltre al momento eucaristico ci fosse anche quest'eco giovanneo del lavarsi i piedi chi lo sa come sarebbe la liturgia se fosse incentrata intorno a lavarsi i piedi quindi non soltanto accogliere qualcosa ma anche un denudamento molto intimo anche tra tra chi è lì no e io penso che in qualche modo queste quasi preghiere ci facciano toccare internamente nel cuore da qualche parte a volte anche nella mente perché credo che sono delle c'è tanta teologia ti tocca il cuore come ti tocca ti mette in movimento il pensiero penso che possono alludere a qualcosa del genere a me le ballate dell'ira piacciono molto io penso che troverete tanto tanto materiale dentro questo libro e che toccherà proprio perché ricco di coloriture penso che potrà andare a nutrire la cavità che ciascuno di voi si porta dentro e che può essere riempita di trascendenza qui ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutti i bisogni io chiudo qui vi ringrazio tutti ringrazio moltissimo Ezio Quarantelli per aver deciso di ripubblicare questo libro e per gli altri libri che pubblicherà ancora e che ci porterà ringrazio Francesco Occhetto per essersi preso così cura in maniera materna delle parole di Adriano Zarri ringrazio molto Antonietta Potente per averci guidato con la sua riflessione in tanti aspetti che valeva la pena squadernare del pensiero e ringrazio Antonella Delligatti per aver dato voce alle parole di Adriana grazie a voi per essere stati qui e buon proseguimento arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti